Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it e ti do il benvenuto su WordPress all'italiana, il podcast dove diamo voce e raccontiamo le storie delle persone che sono coinvolte con il mondo WordPress in Italia. Buon ascolto! Benvenuti a questa prima puntata di questa nuova avventura che sono contentissimo di iniziare con Buonavventura di Bello. Ciao, Buonavventura, benvenuto! Ciao, ciao Daniele, saluto a te e a tutti quanti. Bene, come ti spiegavo prima, questo podcast nasce per dare una voce, raccontare le storie delle persone che ci sono dietro, che girano intorno al mondo WordPress in Italia e tu sei assolutamente una di queste persone. Non so se ti ricordi, ma la prima volta che ci siamo incrociati era un evento, un Google Meet della comunità dei nomadi digitali italiani e mi pare che eravate in Cilento allora. Sì, 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 è la mia zona poi nativa praticamente, sì, sì. E da allora ci siamo un po' rimasti in contatto con qualche messaggio su Facebook, qualche commento qua e là, però ecco, mi è sempre mancato di farci una chiacchierata, quindi questo podcast ha anche l'obiettivo di fare una chiacchierata con persone che penso sono interessanti nel mondo WordPress italiano. Quindi lascio a te presentarti, chi è Buonavventura di Bello e cosa fa? Sì, diciamo brevemente, io ho iniziato negli anni Ottanta sviluppando i giochi di avventura, i adventure games, si chiamavano all'epoca per i computer e home computer. Poi mi sono dedicato all'editoria prima dei videogiochi e successivamente editoria informatica, fino ad approdare poi nell'ultimo decennio più o meno ai libri, principalmente ai libri dedicati a WordPress. Cioè ho iniziato proprio con quelli, con l'editore Epli, più o meno una decina di anni fa, quasi undici se vogliamo. Allora, io ne ho contati dodici di libri tuoi legati a WordPress. Contatto giusto? Sì, se consideriamo anche le varie edizioni, diciamo che ci siamo più o meno, sì. Ok. Allora, volevo fare una panoramica dei tuoi libri legati a WordPress. Allora c'è WordPress, la guida completa, creare blog e siti professionali. Sì, che è quello più conosciuto, credo. È già la terza edizione, tra l'altro, quindi è fuori da un po' di anni, sì, è quello anche più stagionato, diciamo così. Ok, poi c'è WordPress for Dummies. Sì, sì, il più recente, sì. WordPress, la guida completa, creare blog e siti professionali. Sì, che dovrebbe essere una versione precedente, la seconda edizione. Ci dovrebbe essere quello sulla SEO. Sì, SEO e social WordPress, ottimizzare WordPress per posizionarsi. Che non so se ce n'è ancora qualche copia in giro. Sì, è andato un po' esaurito quello lì, non ci dovrebbe essere molte copie in giro. C'è anche quello su WooCommerce, quindi creare siti e commerce con WordPress e WooCommerce. Esatto. E poi c'è blogging professionale con WordPress, che era dedicato un po' al content marketing, diciamo così. E il primo, il primissimo, che è uscito in due edizioni, se non sbaglio, se ricordo bene, perché è proprio il primissimo. È Webmaster con WordPress. Poi ne ho trovato anche due, uno per il WordPress plugin e uno che parla di WordPress database. Esatto, esatto. Quelli sono due ebook che di solito io poi regalo insieme ad altri, faccio scegliere ai lettori quando si registrano, dopo aver acquistato gli altri libri, quelli principali, in genere gli regalo una copia di questi ebook come approfondimento. Perché sono argomenti che poi sono abbastanza vasti e non riesco a trattarli all'interno dei manuali principali. Magari poi approfondiamo, insomma, la strategia che c'è dietro. Quando penso a te, penso, cioè ti ho messo nella categoria dei divulgatori del verbo di WordPress. Ti volevo chiedere, da dove è nata questa tua vocazione? Come sei entrato nel mondo WordPress e anche la tua vocazione per questa divulgazione attraverso i libri? Sì, allora, diciamo che la divulgazione in generale è nata dopo l'avventura con i videogiochi, diciamo così, anche a livello editoriale. Perché la prima rivista che ho fatto, che era proprio di divulgazione informatica in generale, si chiamava Gigabyte. Era una rivista degli anni 90, nel momento in cui cominciava a comparire internet, ma appena appena faceva a capolino il web. Quindi si parlava dello shareware, si parlava di tanti argomenti, degli archivi su CD-ROM. Quindi era un mondo un po' tutto in evoluzione. E mi aveva colpito e mi piaceva, diciamo, parlarne con un linguaggio molto più accessibile alla maggior parte delle persone. E quindi creai questa rivista che uscì per otto numeri. Dopodiché, nello stesso periodo, pubblicai il primo libro che era dedicato proprio a internet. Si chiamava Internet Tour 95. Ed era una delle prime guide alle risorse di internet. All'epoca, appunto, era un po' una cosa pionieristica, diciamo così. Quando poi ho scoperto le piattaforme di blogging, prima di WordPress avevo usato una piattaforma che era molto famosa. Credo che esista ancora, adesso non mi ricordo il nome. Però, diciamo, che era una piattaforma che non era quella di Google. Era americana, tipicamente americana anche quella, poco conosciuta in Italia. E mi aveva attratto il discorso di poter pubblicare dei contenuti facilmente online. Il che fu un passo abbastanza breve, quando poi arrivarono le prime versioni di WordPress, ancora con il tema Kubrick, se ricordi. proprio il primissimo tema ufficiale. E cominciai a pubblicare dei blog. Uno sulla tecnologia mobile. Diciamo, erai verso il 2000, ecco. Quindi tieni conto che all'epoca tecnologia mobile erano i primissimi smartphone, ma proprio i palmari dotati di connessione telefonica, quelli della Casio, Sony, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, non erano gli smartphone, non c'era ancora l'iPhone, non c'era Android. Esatto, esatto. C'erano queste piccole app in JavaScript. C'erano un po' di cose interessanti per cui mi aveva colpito. E rimasi molto affascinato da questo discorso della pubblicazione dei contenuti online. Col tempo, però, vedi anche che c'era una certa evoluzione nel discorso dei temi. Non c'erano più soltanto i temi predefiniti, i pochissimi temi predefiniti, ma cominciavano a comparirne altri, con la possibilità anche di modificarli, di cominciare un attimo ad avere dei siti veri e propri, non più soltanto dei blog. La cosa a me mi ha affascinato a tal punto che decisi di proporre un primo libro, che era proprio Webmaster con WordPress, all'editore Epli. La cosa assurda è che incontrai l'editore, diciamo, una delle persone che lavora per Epli e si occupa di coordinare le varie linee editoriali, lo incontrai a un Joomla Day a Roma. Quindi gli proposi il primo libro di WordPress durante un Joomla Day. Però, se consideri che, diciamo che fu una decisione presa nel momento giusto, perché era il momento in cui Joomla, che sembrava l'apice, stava per crollare, per il discorso di fare la nuova versione, mi pare la 3 se non sbaglio, che non c'entrava niente con la precedente, quindi senza retrocompatibilità, e quindi stava per esserci il crollo di Joomla, e cominciava l'interesse per WordPress. Infatti fu un boom, diciamo che quel primo libro ha avuto veramente tantissimo seguito e ha dato poi origine a tutti quelli successivi. Mi sembra di capire che ti è sempre piaciuto scrivere. E hai già scritto dei libri prima di scrivere il primo libro su WordPress? Diciamo che scrivevo soprattutto sulle riviste. Lavoravo molto nel settore dei periodici. Scrivevo, traducevo, scrivevo tantissimo. Quello che mi piaceva era il discorso proprio della divulgazione, cioè di dare quel primo impatto per facilitare quel primo passaggio a qualcosa di tecnico alle persone che erano proprio a zero su un argomento. Ed è una cosa che ho conservato. Io infatti recentemente ho, proprio adesso, l'ultimo libro che ho pubblicato per Epli, sempre nella collana for Dummies, è capire e usare la tecnologia, che parla di come funzionano i computer, i dispositivi mobili, i browser, internet, eccetera, eccetera. E prima di quello anche un Python for Dummies, per introdurre le persone alla programmazione. Quindi diciamo che la passione è stata sempre quella per la divulgazione. Il fatto di farlo sui libri è un plus, è una cosa che considero molto importante, perché il libro, rispetto alle riviste precedenti, o al web, che comunque è un casino, il libro rimane una guida di riferimento che la persona può tenere a fianco e consultare in qualsiasi momento, anche offline, studiare, fare un percorso progressivo, soprattutto, e quindi i servizi di questo strumento. Anche se poi, con le ultime versioni della guida completa, ho cercato di creare un connubio tra il libro e il web. Infatti, ho messo online un sito, si chiama VPGC, cioè proprio WordPress Guida Completa, le sono le iniziali, e all'interno di questo sito ho messo come approfondimenti tutte le risorse web, e anche di YouTube, eccetera, collegate agli argomenti del libro. Quindi c'è la possibilità di avere una struttura organica dove andare ad approfondire con video lezioni, con articoli, tutorial, eccetera, tutto quello che nel libro non ci stava, perché anche un libro come quello, che più o meno sono 350 pagine, non è che può contenere tutto lo scibile di WordPress. Come sai, WordPress è un mondo infinito, veramente. Però appunto, senza andare mai oltre un certo livello tecnico, perché altrimenti, diciamo che ci si perde, nel senso che si va a toccare argomenti che interessano una piccolissima parte del pubblico, delle persone. Quindi, per me, diciamo, pubblicare per esempio un libro su cui modificare i temi di WordPress sarebbe qualcosa che non avrebbe molto senso, diciamo così. Sì. E come hai fatto questa integrazione fra libro e web? Allora, diciamo che l'ho fatto, sì, è una cosa che ho fatto anche per il libro, quello sulla tecnologia, perché durante la stesura, in questo caso, l'aggiornamento del libro, la prima volta durante la stesura, sono andato a selezionare su internet tutte quelle risorse che mi sembravano valide, mi sembravano interessanti, convincenti, abbastanza aggiornate e le ho collegate a una versione ipertestuale del sommario. Quindi ho preso il sommario del libro, l'ho inserito all'interno del sito e ho collegato, usando le categorie, sotto categorie, i tag, eccetera, ho, diciamo, collegato tutti questi argomenti che man mano andavo reperendo su internet in modo che fossero tutti organizzati secondo gli argomenti del libro e i sotto argomenti, capitoli, sotto capitoli, eccetera. Quindi, per esempio, se c'era il capitolo sulla sicurezza e c'era l'argomento che era quello, non so, di un determinato plugin tipo Wordfence oppure del backup, allora andavo a selezionare tutti i contenuti che riguardavano come fare un backup di WordPress, come utilizzare un determinato plugin per farlo oppure come configurare Wordfence, facciamo un esempio. Quindi, diciamo che l'idea era quella di dare degli approfondimenti che poi potessero essere anche aggiornati nel tempo perché poi, per fortuna, quando qualche lettore magari mi dice guarda che quel contenuto lì non c'è più il video su YouTube oppure è un po' troppo vecchio, non c'è qualcosa di più aggiornato, io, dietro quella segnalazione, vado e vado ad aggiornare il contenuto su web, cosa che non posso fare infatti sul libro. I libri, diciamo, che hanno una validità di due, tre anni, ecco, non di più. Sì, beh, questa è stata una bella genialata proprio per risolvere due, un paio di problemi, ecco, uno legato alla velocità con cui cambiano le cose, penso, hai menzionato la famigerata obsolescenza. Esatto, l'obsolescenza. Quindi, chi, diciamo, sul libro dai passi dei concetti, per esempio, appunto, il backup, la sicurezza, concetti eterni, poi, l'approfondimento viene fatto sul sito, dove invece hai dei contenuti più dinamici che aggiorni nel tempo. Esatto, esatto, sì, perché diciamo che in precedenza il libro ti dava l'input, nel senso che è normale che nel capitolo del backup, dove parlo del backup, non posso mettere tutorial per ogni plugin di backup, o anche parlo della migrazione da un hosting all'altro, eccetera, però l'importante è che il lettore che è completamente a digiuno, prima di tutto capisca che si possono fare certe cose e capisca qual è la terminologia da utilizzare anche per andare a cercare le informazioni. Quindi, se sa che esiste la parola migrazione, che si può migrare un sito, magari va a cercare come migrare un sito e quindi diventa molto più facile per lui. E penso che la cosa importante sia quella a livello divulgativo, poi ovviamente in un testo per esempio come Wordpress for Dummies il testo è più incentrato a dare dei tutorial passo passo con le immagini, con le diverscalie numerate, passo uno fai questo, passo due fai questo, eccetera, però in quel caso gioco forza puoi limitarti veramente solo alle basi, cioè gli dai proprio le basi al lettore e dopo dovrà approfondire con la guida completa, diciamo, come il passaggio successivo. Sì, quello di dare la terminologia giusta in bocca agli utenti penso sia un passaggio molto importante perché chi non conosce la materia rischia poi di cercare le cose con i termini sbagliati e con le soluzioni che non c'entrano niente. Ma non solo, guarda, c'è anche un altro aspetto molto importante che diciamo viene trascurato di solito, poi nel tempo io ho fatto anche molta formazione a gruppi, a formazione individuale, eccetera, in campo informatico e anche un po' su WordPress. C'è una cosa importantissima che le persone non conoscendo la terminologia non riescono neanche a chiedere aiuto in modo chiaro. Per esempio nei gruppi Facebook ce ne sono tanti molto validi dedicati anche a WordPress. Il migliore credo sia il WordPress italiano, quello dei fratelli gemelli. Esatto. WP Italia. diciamo che poi molte persone accedono a un gruppo, si registrano, non sanno porre la domanda nel modo giusto, cioè non si sanno spiegare di cosa hanno bisogno. Invece avendo acquisito la terminologia già è molto diverso. Sia capire, diciamo, porre in modo giusto, esatto, preciso la domanda e quindi ottenere le risposte adatte, sia poi utilizzare queste risposte per andare ad approfondire anche con altre ricerche. Assolutamente, sì, sì, molto interessante. Dicevi prima che c'è una strategia dietro questi libri, appunto alcuni sono libri pubblicati da editori, tu spingi anche molto sul self-publishing, hai anche un libro dove parli proprio esatto, anzi, dove dite, dove dici un po' datato, anche quello è un po' busoletto come libro, perché il problema dei libri è sempre quello. Sì, il self-publishing è una cosa che, diciamo, ha sempre affascinato sia me anche la mia compagna, l'abbiamo, diciamo, fatto assieme già per una decina di anni, anche su argomenti diversissimi che non c'entrano niente con l'informatica, quindi anche con pseudonimi e così via, la libertà è proprio quella di poter pubblicare di tutto, di più, quello che ti piace senza porti problemi che vada magari a, diciamo, a inquinare un settore o un altro, quindi, diciamo, ti dedichi con passione a un argomento, lo svisceri e lo pubblichi con facilità senza investire, perché la cosa bella del self-publishing è il fatto che è a costo zero alla fine, al massimo ti compri la tua coppia cartacea per vedere come è venuto, se c'è la versione cartacea. La strategia in questo caso è quella di avere, prima di tutto, di poter creare degli approfondimenti in formato ebook, cosa, diciamo, di quegli argomenti che magari hanno bisogno di una trattazione organica, nel mio caso c'era il discorso dei database, per esempio, come gestire il database con WordPress, cos'era il database di WordPress e quindi trattarlo con un librettino che magari fosse qualcosa di più di un capitolo di un libro, oppure sulla sicurezza eccetera, eccetera, quindi vari argomenti, diciamo così, anche sui plugin, l'uso in generale dei plugin, poi uno di questi ebook l'ho addirittura travasato all'interno della guida completa dove ho fatto la rassegna dei plugin sui vari tipi di utilizzo, quindi per far capire dove si usano, per quali tipi di applicazione e quali sono quelli più noti, quelli più consigliati, diciamo così. Quindi la strategia da una parte è questa, di approfondimento, l'altra strategia è una strategia di self-branding, perché il fatto di poter pubblicare degli ebook anche di, non dico poche pagine, ma qualche decina di pagine, se l'argomento è molto di nicchia, molto specifico, ti permette di entrare sul mercato, diciamo così, tra virgolette, con un nome che si fa riconoscere e dove le persone poi possono avere un riferimento per prendere altre guide se sono soddisfatte di quella che hanno acquistato. Questo è un po' il famoso halo effect di Apple, tu acquisti un prodotto Apple, visto che sei soddisfatto, compri tutti gli altri prodotti Apple, quindi sei preso l'iPhone, prendi il MacBook, eccetera, eccetera, quindi creare questo halo effect un po' anche sul discorso editoriale. In più, c'è l'altro vantaggio che è quello di fidelizzare in un certo senso i lettori, avere un contatto con loro proponendogli, quando acquistano uno dei libri pubblicati con Apple, proponendogli di registrarsi e entrare in una newsletter che non è uno spam perché io trovo faticoso anche mandare un'email ogni tre o quattro mesi, ogni sei mesi, quindi diciamo che non è una newsletter di quelli che ti bombardano. Serve unicamente prima di tutto la prima volta a regalare questi ebook, quindi io poi propongo una lista degli ebook autopubblicati ai lettori, loro scelgono due o tre titoli e io gli mando nel messaggio successivo e più o meno ricevono, che ne so, quando c'è la nuova edizione di un libro ricevono l'avviso di questa nuova edizione magari con all'interno il pdf di un capitolo dimostrativo con il nuovo sommario eccetera, quindi serve più che altro come veicolo per tenere il contatto con i lettori che tante volte mi contattano anche per espormi dei problemi, per chiedermi qualche informazione, per chiarire qualche dubbio e così via. anzi addirittura nel caso di Wordpress for Dummies io per esempio regalo anche una sessione di un quarto d'ora in modo da sia conoscere personalmente i lettori e sia dargli magari quel primo input di cui possono aver bisogno visto che sono agli inizi con Wordpress magari anche a livello orientativo cioè su come regolarsi proprio ieri ho avuto una sessione con un lettore di Milano praticamente stava creando un sito per un'associazione culturale era un po' indeciso diciamo come faccio a modificare il tema come faccio cioè è meglio usare un builder oppure imparare il foglio stile che ne so come faccio a regolarmi con Gutenberg e rendere responsive alcune cose gli ho consigliato un plugin che ti permette di regolare la visibilità dei vari blocchi di Gutenberg a seconda se sei su dispositivi mobile o computer lui non sapeva di questo plugin praticamente io però l'avevo già usato per cui mi viene facile magari dargli anche un'indicazione di questo tipo per cui appunto è stato anche un bel modo di conoscersi è una cosa molto bella avere questo contatto diretto adesso che abbiamo internet è tutto diverso rispetto a qualche decennio fa quando si scriveva sulle riviste c'era solo la posta ti arrivava la letterina cartacea e tu rispondevi nella rubrica della posta praticamente sì penso anche che sia molto importante chiudere il cerchio cioè in base alle domande che ti fanno ai feedback che ti danno poi tu puoi andare a mettere più informazioni quando fai le revisioni o nei prossimi libri sì sì infatti infatti ma poi ti dico la soddisfazione per me è sempre stata quella di verificare proprio in modo concreto che le persone utilizzino questo mio lavoro per migliorare la loro vita cioè per me questa è una cosa importantissima al di là dell'aspetto economico perché alla fine i diritti che si guadagnano sui libri sono veramente ridicoli se vogliamo diciamo che se lavori bene forse ci sopravvivi ecco ci sopravvivi degnamente non è che ti puoi arricchire pubblicando libri a meno che non sei Stephen King o qualcosa del genere per cui alla fine la vera soddisfazione è quella è quella di vedere che ci sono persone magari anche di una certa età a me è capitato di conoscere lettori che poi siamo diventati addirittura amici ci siamo conosciuti ci siamo incontrati figurati che magari lavoravano prima in Flash per fare i siti quando Flash è morto erano senza lavoro erano arrivati già intorno ai 50 anni non potevano riciclarsi per cui hanno poi scoperto il mio libro hanno imparato a usare Wordpress e hanno di nuovo dato da mangiare a una famiglia cioè è una cosa molto bella questa qui penso che valga molto di più di qualsiasi guadagno economico che cosa pensi abbia contribuito al tuo successo cioè a livello di comunicazione come divulgatore che cosa ha reso la tua forma di comunicare il tuo stile che cosa è che ha aiutato a farti avere questo successo ma penso che sia il linguaggio sicuramente è stato l'esperienza allora ti dico prima di tutto io parto come lettore cioè io da ragazzo divoravo i libri per me soprattutto la fantascienza io leggevo la collana urania era arrivato al punto da leggere un romanzo al giorno praticamente in poche ore avevo letto un romanzo era un mostro questo parliamo dell'adolescenza diciamo prima adolescenza quindi diciamo che si è sviluppato molto il linguaggio dal punto di vista della scorrevolezza del testo eccetera questo poi l'ho applicato in modo molto intenso intensivo quando ho scritto ho fatto divulgazione sulle riviste di settore quindi sulle riviste di informatica in generale e così via quando sono arrivato ai libri quella capacità divulgativa a livello di scrittura che avevo maturato in decenni si è unita all'esperienza che avevo avuto come formatore e quindi avevo avuto contatto con persone di ogni età di ogni background tecnico io ho fatto formazione come esaminatore di patente europea del computer quindi ho fatto alfabetizzazione informatica per dipendenti di ASL di consorsi acquedotti quindi erano persone che magari il computer non l'avevo neanche mai acceso per loro era un approccio proprio da zero quindi si è unito quella capacità di parlare la loro lingua il loro linguaggio al fatto di saper scrivere scrivere in modo diciamo scorrevole e questo ha creato poi all'interno dei libri quel linguaggio che ha colpito positivamente le persone anche se ti dico io poi mi diverto molto spesso a leggere le recensioni su Amazon c'è qualcuno che per esempio libri dove io ci ho messo due tre mesi per scriverli mi sono fatto un mazzo tanto come si dice in gergo ricerca diciamo modo per strutturare al meglio eccetera e poi leggo una recensione di qualcuno che scrive questo libro va bene anche solo come fermaporta quindi c'è alla fine non puoi che riderci sopra perché giustamente dice ma questo c'è o ci fa oppure magari trovi questi giudizi contrastanti dove magari qualcuno dice mi sono trovato benissimo ero a zero sono partito da zero finalmente capisco tutto eccetera e un altro scrive il libro è troppo impegnativo linguaggio troppo difficile non riesco a seguirlo allora a quel punto sai che è una cosa soggettiva però per fortuna quando la maggior parte dei giudizi è positiva e quando poi ti puoi confrontare anche direttamente di persona con tante persone con tanti lettori ti rendi conto che il lavoro l'hai fatto bene per fortuna altrimenti ci sarebbe veramente da deprimersi io preferisco ridere piuttosto che deprimermi io sai che vivo in Olanda e hanno un modo di dire che mi piace tantissimo non esiste cucina che può sfamare tutte le bocche esatto bravo bravo esatto non puoi mai accontentare tutti poi tra l'altro c'è un'altra cosa che diciamo che le persone hanno la tendenza più a scrivere un giudizio negativo che positivo cioè se la persona è soddisfatta un po' per pigrizia non va a scrivere il giudizio la recensione se la persona non è soddisfatta o per qualche motivo non gli è piaciuta una cosa allora per ripicca si prende proprio la briga di andare a scrivere la recensione questa è un po' la tendenza purtroppo che c'è in giro poi Amazon gestisce anche le recensioni in modo balordo per cui tu hai magari 70 recensioni positive ne arrivano 3 negative e ti abbassa il vuoto e quindi non è un vero una vera media quella che mette con le stelline diciamo così e le persone a volte poi si lasciano influenzare dalle stelline cioè non guardano neanche le recensioni in basso però si lasciano influenzare dalla non so 3 stelline su 5 non lo so forse questo libro non è che sia tanto buono è diverso andare in libreria sfogliarlo guardarlo ecco questo per fortuna con Epli posso dire che la cosa bella di Epli è che ha una grande distribuzione arriva veramente in modo capillare è una cosa che mi piace molto è un editore storico lo sappiamo mio papà buonanima studiava sui libri di Epli le cose da manovale diciamo da o anche l'allevamento dei conigli per dire ai tempi parliamo degli anni 70 60 70 quindi figurati editore veramente storico e buonavventura cosa c'è nel tuo futuro cosa a cosa stai lavorando adesso appena uscito appunto il libro che hai detto tecnologia tecnologia for dummies capire e usare la tecnologia for dummies sì sì ecco questo qui era un sogno nel cassetto come ho scritto anche in un post recente su facebook perché era qualcosa diciamo che avevo sempre fatto sulle riviste tanti anni fa e desideravo farlo all'interno di un libro però anche lì avevo bisogno di farlo in modo che non fosse non diventasse subito obsoleto quindi andare a cogliere i concetti di base quelli importanti quindi dare anche lì il linguaggio alle persone per potersi diciamo esprimere prima di tutto capire esprimersi in un certo modo poter fare ricerche chiedere consigli aiuto usando il linguaggio giusto e soprattutto cercando di abbracciare tutte quelle cose al di là della teoria perché la prima parte del libro ti spiega che cos'è la RAM la ROM la CPU le periferiche sai tutte le cose informatiche però la seconda parte del libro è molto più pratica quindi ti parla dei browser che cos'è il browser il fatto che tu nel browser puoi installare delle estensioni per potenziarlo e dargli delle nuove funzionalità come fai con i plug-in di Wordpress quindi un po' tutti questi concetti e facendo anche un parallelo con i tablet e gli smartphone però in questo caso in modo un po' secondario rispetto al computer diciamo così per far capire proprio come cambia anche l'interfaccia utente e anche che cos'è un'interfaccia utente quindi usare gli elementi dell'interfaccia questo anche questo l'ho fatto abbinandogli dei contenuti su uno dei miei due blog principali dove ho messo un sommario anche lì per testuale con le FEC quindi con le domande risposte di approfondimento ai vari argomenti del libro anche in quel caso per il discorso di aggiornarle nel tempo eccetera però il prossimo come diceva nel futuro il prossimo libro che è già in programma è strettamente legato solo ai dispositivi mobili quindi sarà come questo ma parlerà soltanto dei sistemi operativi delle app delle impostazioni di tablet e smartphone Android e iOS ovviamente tutte e due le piattaforme insomma avanti tutta con divulgazione e libri sì 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 assolutamente assolutamente quando hai detto di spiegare cos'è un'interfaccia utente mi è venuto un flash a un certo punto agli anni 90 mia madre che va dal dottore e il dottore ha il computer sulla scrivania e c'era scritto menu e mia madre chiede ah ma lei è anche dietologo giustamente infatti infatti giustamente c'era il menu sì 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 ma proprio anche il discorso dei task il multitasking passare da un task all'altro cioè da una cosa da un'applicazione all'altra cosa vuol dire installare un'applicazione cosa vuol dire disinstallarla sono tutte cose diciamo che ma anche come c'è anche come inserire un allegato in un messaggio di posta la cosa la cosa assurda è che anche molte delle generazioni attuali i giovanissimi quelli la famosa generazione x z eccetera se devono allegare un file a un messaggio di posta non lo sanno mica fare magari non usano neanche la posta sul telefono usano i social usano tiktok ma se devono scaricarsi un allegato mandarselo da un'altra parte stamparlo è una tragedia tante volte non è qualcosa manca quell'uso consapevole ecco io la cosa a cui ho sempre puntato anche quando facevo formazione era di creare la consapevolezza nelle persone che usavano la tecnologia in modo che sapessero cosa stavano facendo per non farlo in modo meccanico in modo arido diciamo così avere proprio il senso il significato dell'azione che stavano compiendo per me era più facile perché per me un'interfaccia grafica è qualcosa di solido cioè io quando vedo una finestra vedo i pulsanti non sono delle cose astratte sullo schermo per me sono solidi io quando ci clicco sopra è come se premessi un pulsante fisico cioè ho acquisito questa cosa nel tempo perché ci sono cresciuto con la tecnologia però per le persone è tutta una cosa meccanica se tu gli dici ma guarda che c'è il system 3 in basso a destra dove c'è l'orologio e dov'è non riescono a vederlo magari gli indichi a me è capitato quando facevo a volte delle sessioni di assistenza o di formazione individuale per wordpress e dicevo al mio lettore ma guarda devi cliccare su questa cosa qui che è lì in alto a destra non riusciva a vederla cioè non la notano questa è la cosa particolare quindi non hanno un senso vero di concretezza di quello che hanno davanti e questo è il primo passaggio questa è la fase più delicata che io spero sempre di far superare poi alle persone di dargli questo primo approccio di consapevolezza verso la tecnologia bene prima di andare in chiusura ho tre domande veloci per te flash diciamo domande flash sì con una risposta in qualche frase sintesi ok la prima è che cos'è per te wordpress per me wordpress è la democrazia della pubblicazione di contenuti online cioè significa veramente dare la possibilità a tutti ma proprio a tutti di poter dire qualcosa di poterlo dire al mondo anche grazie al fatto che ci sono piattaforme gratuite come Artervista come wordpress.com eccetera quindi senza preoccuparsi neanche dell'aspetto tecnico tecnologico e invece che cosa sei tu per wordpress sono diciamo un membro della comunità prima di tutto della comunità internazionale e poi di quella italiana che è un po' più piccola ma nel suo piccolo comunque ha un suo perché e poi diciamo che sono la guida ai primi passi cioè non il guru assolutamente cioè anche a me mancano tante nozioni tante cose tecniche di wordpress non sono una persona che potrebbe creare un tema da zero eccetera però quantomeno riesco a collocarmi in quello spazio che è importante che è quello che guida le persone a fare i primi passi con questo cms con questa piattaforma poi il resto ci penseranno gli altri o loro stessi che avranno imparato e impareranno anche da soli successivamente e la terza domanda come vedi il futuro di wordpress? guarda allora il futuro l'ha già tracciato Mark Mullenweg perché diciamo che sappiamo già che i prossimi passi saranno il miglioramento dell'aspetto collaborativo quindi puntare molto proprio alla pubblicazione dei contenuti e gestirli a livello editoriale redazionale e l'altro è il multilingue cioè superare lo scoglio attuale di dover avere un plugin come WPML o qualsiasi altro per poter pubblicare in multilingue quindi diciamo che il futuro di wordpress è dare ancora più possibilità di pubblicare contenuti per il mondo in più lingue e in maniera anche molto professionale questo è il discorso dei siti i siti si possono fare con qualsiasi strumento wordpress è uno dei tanti magari in alcuni casi non è anche il più adatto però appunto per il discorso contenuti secondo me rimane imbattibile anche dal punto di vista responsive per i dispositivi mobili con la sua app eccetera che molti trascurano ma è una cosa molto simpatica l'app mobile di wordpress grazie mille buona ventura fantastico ah visto che sei il primo ospite hai anche la domanda la domanda bonus perché questo podcast ancora non ha un nome ti chiedo di votare oppure di proporre qualcos'altro i tre nomi di questo podcast contendenti vediamo dai il primo è wordpress all'italiana il secondo è wordpress parla italiano e il terzo una piccola variazione è wordpress che parla italiano ma guarda dalla tua faccia non ti vedo convinto no 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 diciamo che io essendo un buon gustaio il primo mi piace moltissimo perché come le tagliatelle al ragù come cioè wordpress all'italiana suona suona bene c'è un bel suono ok è anche molto italiano come nome perfetto grazie mille anche per aiutarmi ecco te l'ho detto che questo progetto parte insieme nasce insieme sì sì ma è molto bello è molto bello io avrei voluto farlo avrei voluto fare una cosa del genere con delle interviste tempo fa non sono riuscito non ho avuto il tempo però appunto per quello sono contento che tu sia riuscito da farlo addirittura in video in audio è quello che cioè farlo in questo modo è molto più bello molto più radiofonico ecco diciamo così grazie ancora buon avventura di bello grande divulgatore e anche divulgatore mondo wordpress la guida che ti aiuta a fare i primi passi con questo cms che aiuta a democratizzare il web grazie a te daniele per chi vuole rimanere in contatto come dove ci si trova nelle web sì uno dei miei due siti buonaventuradibello.com o buonaventuradibello.it diciamo che lì poi ci sono tutte le indicazioni in forma dei contatti eccetera altrimenti c'è l'indirizzo email è info chiocciola buonaventuradibello.com o .it un po' lungo ma molto facile memorabile perfetto allora grazie buonaventura continua a fare wordpress all'italiana a questo punto esatto grazie a te daniele a presto saluto a tutti ciao e così siamo arrivati alla fine di questo episodio di wordpress all'italiana fammi sapere cosa ne pensi e se ci sono dei personaggi che vorresti sentire intervistati nelle prossime puntate trovi i miei contatti nelle note all'episodio e non dimenticarti di mettere 5 stelle su itunes o spreaker così da far conoscere a più persone questo progetto grazie e a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.